Cosa puoi fare per fermare la povertà? Sei mai stato in una stazione della metropolitana in una notte fredda e hai visto qualcuno tremare perché non aveva una giacca? O che ne dici di fare la fila al supermercato dietro qualcuno che non ha abbastanza soldi per comprare quello che ha nel carrello? In tutto il mondo ci sono persone che affrontano situazioni difficili e non riescono ad arrivare a fine mese. Mentre sapevo che non avevo molto da parte, sapevo anche che ci potevano essere delle piccole cose che potevo fare per rendere le giornate di queste persone un pochino migliori. E puoi farlo anche tu! Tutto è iniziato quando un giorno stavo guardando la tv con mia sorella. Stavamo guardando uno speciale sulle festività e parlavano di quante persone senza casa si recavano alle caritas e alle mense per un pasto caldo. Le persone del programma spiegavano che mentre c'erano sempre molte persone che facevano volontariato durante le festività, molte altre non avevano più aiutato durante il resto dell'anno, anche se il loro aiuto era comunque ancora molto richiesto. Fu allora che pensai a cosa potevo fare per aiutare i bisognosi quando il mio conto in banca non poteva essere di alcun aiuto. Ho iniziato a cercare online per capire. Ho visto che molti rifugi e centri di donazione prendevano vestiti usati. Una bella scusa per riguardare tra le mie cose e liberarmi degli oggetti che non indossavo più. Mi sono tuffata nel mio armadio e ho trovato camicette, jeans e vestiti che non avevo indossato negli anni e che erano in ottime condizioni. Ho cercato su Google dove trovare diversi bidoni per le donazioni nella mia città e ho trovato una mappa e ce n'era uno ad appena un chilometro di distanza da me. Ci sono anche organizzazioni che prendono abbigliamento da ufficio e lo donano a persone che si stanno rimettendo in piedi e cercano nuovi posti di lavoro ma non possono permettersi nuovi abiti. Puoi trovare tutte queste fantastiche organizzazioni online. Mentre donare abiti è una grande cosa da fare, sapevo che essere affamati era probabilmente una delle cose più difficili da affrontare. Ho sempre avuto tre pasti al giorno e non riesco a immaginare come debba essere non avere quel lusso. Certo che lo do per scontato. Stavo mangiando in un ristorante una sera con mio marito, intorno all'ora di chiusura, quando ho notato che la cucina buttava tonnellate di cibo nella spazzatura. E non era solo un sacco di cibo, ce n'erano cinque enormi sacchi della spazzatura pieni fino all'orlo di pane, salumi, formaggi e altro ancora. Mi sono chiesta perché lo buttavano via, quando ci sono così tante persone per strada che potevano usarlo. Sono andata online e ho trovato un paio di app che ti collegano a ristoranti che offrono cibo del giorno prima a un prezzo scontato. Puoi ritirarlo dopo l'orario di chiusura. Ne ho scelto uno nelle vicinanze e ho portato con me alcune borse vuote. Proprio come mi aspettavo ho pagato meno della metà di quello che costava durante l'orario di apertura e ho riempito tutte le mie borse con il cibo, che era vecchio di un solo giorno e perfettamente integro e commestibile. Un amico e io siamo andati in centro a distribuire il cibo alle persone che vivevano per strada. Erano così grati. Pensa, tutto quel cibo sarebbe finito nella spazzatura. Se non hai tempo per prendere il cibo da un ristorante la sera dopo chiusura, c'è un modo molto più semplice per dare a qualcuno da mangiare. La prossima volta che vai in un ristorante e vedi qualcuno che è seduto fuori che chiede soldi, digli che hai dei soldi e ti piacerebbe comprargli un pasto caldo. Se ti senti a tuo agio, fallo venire al ristorante con te e ordina qualcosa. È un modo così semplice per aiutare qualcuno in difficoltà. Mentre l'abbigliamento e il cibo sono un problema ovvio per chi si trova in difficoltà, non ho mai pensato a quali altre cose avessero bisogno quotidianamente e che non possono permettersi. Prendiamo le donne senza tetto, per esempio. Non hanno modo di acquistare i prodotti sanitari di base di cui necessitano ogni mese. Ho riunito un gruppo di ragazze una sera e abbiamo confezionato piccole borse con prodotti femminili, libri e altri piccoli oggetti. Ne ho trovati tantissimi al supermercato. Tutte quante hanno contribuito con un po' di soldi e sono riuscita a comprare un sacco di prodotti. Se ti senti a tuo agio nel farlo, puoi consegnare questi pacchetti speciali alle donne bisognose per strada oppure puoi cercare delle associazioni che prendono questo tipo di donazioni. Secondo il Committee on Healthcare for Underserved Women, negli Stati Uniti c'è un più alto tasso di gravidanza non pianificata nelle donne senza tetto, ma non hanno accesso a un'assistenza sanitaria prenatale adeguata. Ciò significa che le complicazioni durante la nascita sono più comuni. Ci sono un paio di organizzazioni nazionali a cui puoi donare denaro per aiutare le donne a trovare cliniche mediche e professionisti per aiutarle. Mentre tutti questi gesti utili che ho appena menzionato sono grandiosi, a volte sono le cose più semplici che fanno la differenza. Prova a sorridere a qualcuno che sembra stia passando un brutto momento. Per qualcuno che chiede soldi per strada, vedere qualcuno fermarsi e dargli importanza può significare tutto. Spesso si sentono invisibili, osservando le persone che passano davanti a loro ancora e ancora. Prenditi un momento per sorridergli anche se non hai soldi da dare. Vuoi fare qualcosa in più? Prova a sederti e parlare con loro. Chiedi come stanno, prenderti il tempo per ascoltare la loro storia ed essere lì con loro. Anche se solo per pochi minuti può davvero fare la differenza. A volte tutto ciò di cui una persona ha bisogno è qualcuno con cui parlare. E chi lo sa, potresti persino imparare qualcosa. Se ti capita di passare vicino qualcuno per strada che sembra che non sia bene o sembra che abbia bisogno di attenzione medica, ma non è necessariamente un'emergenza, chiama l'800 062 026 e chiedi aiuto. Questo numero verde è della rete sociale attiva ed è una hotline nazionale che esiste per aiutare più bisognosi. Chiama sempre il 112 in caso di una vera emergenza. Basta comporre il numero verde 800 062 026 e chiedere a qualcuno di venire e controllare la persona. È super facile e non devi nemmeno parlare con la persona che ne ha bisogno se non ti senti a tuo agio. Un altro modo semplice per dare alle persone bisognose è reindirizzare i tuoi regali. Se devo essere veramente onesta, all'inizio non ero sicura di questa idea. Significherebbe rinunciare a tutti i miei regali di compleanno per aiutare chi ha bisogno, ma dopo averci pensato ho capito che avevo già tutto ciò di cui avevo bisogno, non mi stavo perdendo nulla. Così al mio 27esimo compleanno ho chiesto ai miei amici e alla mia famiglia di non comprarmi regali. Invece gli ho chiesto di scegliere un ente benefico al loro piacere e di donare tutto ciò che avrebbero speso per me a quell'organizzazione. Questo è un modo così semplice di restituire e non ho dovuto fare niente. Se desideri donare denaro di tanto in tanto ma non riesci a farlo, prova a inserirlo nel tuo budget mensile. Mio cognato lo fa e ha sempre qualche spicciolo extra da dare a qualcuno che chiede soldi per strada. Anche se sono solo 5 euro, 10 euro, se lo metti da parte come faresti per l'affitto o per i soldi della spesa, avrai un po' di soldi ogni mese da donare. Non dovrai nemmeno pensarci. So che a volte pensi che così tante persone nel mondo hanno bisogno di così tanto e come fai ad aiutarli tutti? Ma la verità è che basta qualcosa di piccolo. Se tutti nel mondo fossero aiutati in piccoli modi ogni tanto farebbe davvero la differenza. Quindi la prossima volta che vedi qualcuno che ha bisogno, se tu senti il bisogno di aiutare, fallo. È semplicemente la cosa giusta da fare. Non vorresti che qualcuno lo facesse per te? Che cose semplici fai per aiutare le persone meno fortunate di te? Facci sapere nei commenti. Forse puoi incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Non dimenticare di dare a questo video un mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti. Resta su Il Lato Positivo.